ciao carissimi oggi andiamo a preparare questi stupendi biscotti di vetro fatti con le caramelle dure seguite il video perché veramente sono semplicissime guardate come sono belli ci vuole pochissimo qualche accortezza e il gioco è fatto se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video ci trovate anche su instagram sempre con il nome a casa di apicio su instagram ci avete chiesto di fare questi noi avevamo già fatti l'anno scorso ma non avevamo pubblicato quest'anno a grande richiesta ecco a voi biscotti di vetro vi lascio alla ricetta iniziamo la nostra ricetta mettendo 125 grammi di zucchero extra fino oppure a velo con 125 grammi di burro che ho tirato fuori dal frigo 10 15 minuti prima non deve essere troppo morbido vado a lavorare lo zucchero con il burro e quando è tutto ben incorporato vado ad aggiungere un uovo sbattuto nuovo medio vado ad aggiungere all'interno e vado a impastare nuovamente io consiglio di farlo con le mani perché è molto più facile ci vuole in realtà pochissimo tempo fatto questo vado ad aggiungere un cucchiaino di estratto di vaniglia vado a mescolare nuovamente e poi vado ad aggiungere la farina 00 quella per dolci 250 grammi impasto velocemente come tutte le frolle e poi vado a fare una cosa non la vado a mettere il panetto di frolla direttamente in frigorifero ma vi faccio vedere ecco qua la nostra frolla guardate com'è perfetta e vado a metterla con una spolverata di farina su della pellicola lasciamoci abbastanza spazio mettiamo un altro pochino di farina sopra e poi andiamo a chiudere con con la pellicola vado a prendere il mattarello che ha lo spessore di mezzo centimetro oppure regoliamoci ad occhio io così faccio molto prima e mi vengono perfetti vado a stendere la mia frolla in questa maniera poi la vado a mettere in frigorifero per almeno mezz'ora 40 minuti questo mi aiuterà poi nella produzione dei biscotti vado a prendere un cerchio una stellina e queste sono importanti le caramelle dure senza ripieno andiamo a prendere di colori diversi ho trovato diversi colori nei chupa chup ecco qua non bisogna fare una farina ma bisogna sbriciolarle possiamo metterle nel frullatore possiamo schiacciarle come ho fatto io col batticarne se le prendiamo di più colori vengono più carine ovviamente poi andiamo lasciamo le separati colori andiamo a prendere la nostra frolla vedete adesso com'è bella stesa e indurita e vado a fare gli stampi con i cerchi prendiamo poi una stellina un cuoricino quello che ci pare che però rientri all'interno di questo cerchio in modo tale che poi la stellina e la nostra pallina di natale non si rovini con uno stuzzicadenti o con il dietro di un pennello vado a fare un foro fatelo grande quanto il nastrino che andiamo poi a mettere e vado a mettere all'interno del foro che ho fatto con l'altro tagliapasta e le caramelle non serve come ho detto ridurle in polvere vado a metterle così in questa maniera non devo essere preciso nei bordi perché una volta che si andrà a cuocere riempirà tutto lo spazio vado ad allargare nuovamente un pochino il mio forellino e se il forellino si chiude alla fine della cottura vado a rifarlo appena uscito dal forno se no dopo si rompe ecco qua metto in forno a 180 gradi statico per 10 15 minuti si devono dorare sotto ma sopra devono rimanere bianchi se notate che fanno delle bollicine avete preso delle caramelle non ripiene perché con quelle ripiene fanno delle bollicine brutte poi a vedersi vado a fare con uno stuzzicadenti così ma in realtà quando escono dal forno si sistemano da sole le bollicine se non erano ripiene lasciamo freddare sulla placca forno mi raccomando che deve essere rivestita con della carta da forno perché se no poi si va ad appiccicare non lo andiamo a togliere prima il biscotto perché se no ci bruciamo ci facciamo veramente male una volta che è freddato possiamo mettere il nastrino guardate dietro sono leggermente dorati davanti devono rimanere così perché sono carinissimi e sono perfettamente cotti eccoli qua vedete leggermente dorati ecco qua allora con queste dosi ci vengono otto biscotti ne vedete sei perché tre due già sono andati a ruba e otto stelline oppure potete rimpastare e farne qualche altro di questo qua allora guardate io ho questo che sono dei brillantini alimentari e li vado a mettere un pochino sopra non fa più lo spray quindi li metto così potete prenderli di qualsiasi colore io ho presi questi dorati perché ovviamente sono più carini per il natale ma insomma azzurri quello che volete e sono delle splendide anche dei regalo guardate che meraviglia se il video vi è piaciuto lasciateci un like un commento se vi fa piacere se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video ci trovate anche su instagram sempre con il nome a casa di apicio buon appetito quel piatto è strapulito se ci arrivano ad essere appesi metteteci un nastrino e appendete lì all'albero il mio piccolino non ce li fa arrivare mai vedete che carine con il ecco qua ole con queste colorate vedete ci vengono queste arancioni questo arcobaleno insomma tutti i colori che vi piacciono buon appetito il piatto è strabulito ciao